Ragazzi se siete interessati a delle magliette super fighe vi consiglio di visitare il sito di Pumpling e con il codice SOGAMER tutto in maiuscolo avrete lo sconto del 15% su ogni vostro acquisto da maglietta, felpe, cover per il telefono e poster da appendere nella vostra camera Ogni giorno escono disegni nuovi quindi fateci un salto ogni tanto Il link lo troverete nella descrizione del video Detto questo, buon proseguimento Hola ragazzi, benvenuto da vostro solo in questo nuovo video di Brawl Stars Era tempo che non facevo più un video di Brawl Stars e quindi ho aperto il gioco Quindi andiamo a vedere cosa c'è nel negozio Io ti odio Per 19 gemme? No no Non posso prendere questa cassa? Proprio quella gratuita almeno Era troppo chiedere che ne so magari un Brawler leggendario Perché mi mancano solo quelli E no, manca una Pam pure E la cosa bella è che a me Adesso che ho finito a fare Colt e Dynamite Stellato Devo trovare i soldi per fare Mortis Perché posso già farlo a livello Cioè c'ho i punti per fare a livello 9 Ma mi mancano le monete Questo è un problema È un problema vero e proprio Allora Cosa si può fare? Eh Andiamo a scegliere Ah certo ho sbloccato Carlo ma Carlo non lo uso Andiamo a utilizzare un po' Mortis E vediamo come va Giochiamo Oggi è giornata Mortis Ah E la vedo grigia Minchia Elisabeth va a problem here Sono avvelenato Bella C'è bisogno dare acqua dentro Ma c'è chi di fare Ma l'ho preso? Sono morto però l'ho ucciso Mi sono indicato che io non mi curo A meno che non utilizzo la ulti Eh addio Narciss Addio Da gli ho consegnato delle gemme Ah Ah Presa Non l'ho presa Sono Sono cattivo Con Cioè sono cattivo Non so giocare con Mortis Li ho uccisi tutti Li ho uccisi tutti Andate Proteggetemi Pezzi di introcchia Ok Pi pi ri pi 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 ri Pi 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 Merde 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 Si Ci sa fare Ho avuto una botta di cui ho là Che sono riuscito a raggiungere Tala Perché se no ero morto Ok Non è giornata morta Cambio subito il mio brawler Però abbiamo vinta La prima botta Quindi Ok GG Merde Se venga la zoma Allora Metterei Metterei Dai Andiamo con Penny 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 Usiamo un po' tutto adesso Non è morto alto Però adesso voglio mettere soldi A parte per mortis Faccio arrivare la nuova E sblocchiamo quella Cavolo di stellare Quando lo sbloccherò E Ok Come fa tanti punti Delogativo al contrario questo No Eri quasi mio Pup 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 Vai con questo Vai Ci abbiamo Un pocio dietro Quindi È un problema Te lo fai Ti pocio Fatti pocio Ho sbagliato Non sto giocando Con Dynamite Quindi Ti do la mano Ti do la mano No Non è giusto Ah Leone sicuramente con l'invisibilità Infatti Giochiamo Ah dolore Ah dolore Non ce la meritiamo E niente Qua è persa E' persa E' vero Potevamo Potevamo fare Push Però eh Certo che mi vai a morire L'avvicino da loro Non era il massimo Si riprova Un'altra volta Ho Penny Perché mi pare Che non l'ho giocata Tanto male Non mi pare Ah Ok Carl Corvo E Penny Carl Vuole Un dito Nel sedere Però Eh Carl Carl Anche se Carl E' ottimo Per farsi sgamare Perché tira E poi ritorna Dietro a lui Dai Svogliato Dovete ammazzarlo Quanta vita hai Oh Oh Perché questa è persa Probabilmente E' persa Non è avvenenato Niente Io sto mettendo I mortai Che fanno schifo Però Dio santo Neanche loro Stanno giocando Chissà cosa Era un colpo Bella No 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 Carli Sei una Merda Quanto cavolo Di vita C'è La Quanto cavolo Di vita C'è Carli Pure livello 3 Era Sto perdendo Le coppe Non ho vinta Una e perdo Due Cioè Questa cosa Non mi aggrada Assai Dai No Devo vincere Una coppena Se non hai vincere Una coppena Non sono contento Dai 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 C'è Colt Cristo è Dio Tu sei quello Che dovrebbe fare Più danni Che fai Niente Ti fai pure Ammazzare Così Non ho parole È il primo Tu devi Dovresti pushare Dai Se lo sei tu che fai danni Chi li fa Dai Ricaricati un po' di vita Ricaricati un po' di vita Non vuole mettere cose al centro Dai Dai Dovrei Ammazzarlo Ok L'ho ammazzato io Alla fine È il primo Non puoi più usciare Ti sei preso 7 metri Gemmi Ti sei preso Se tu puoi uscire L'abbiamo perso Dai Ne mettiamo un'altra Vai Dai 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 Non è ancora finita Giù Vai giù Vai giù Tutti giù Tutti giù Tutti giù Dovete andare Dovete andare tutti giù Come cavolo Ve lo devo dire Vai Dai No Dove vai Colt Colt dove Ok Vinta È vinta Però Cristo e Dio Quanto era ritardato quel Colt Quando era ritardato era Non ne ho idea Però era un grandissimo ritardato E Facciamoci un'ultima con Jesse Dai Sempre la raffagemme Perché le altre rapina Non mi fanno impazzire così tanto Rapina dovrei farlo con altre due persone che conosco Oddio per un momento ho letto solo gamer sottomorti Sottomorti Non so dove stai Stecca Come se non lo so Dai Ok Bravo Stecca Mi piace come ragioni Eh L'altro è un culato Stecca Sinceramente Bravi Avete fatto tutto L'anzuola Adesso Siete dei geni Proprio Dei geni Non ho parole Senza parole Senza parole Quello deve morire Quello deve morire Mio figlio poteva morire Siete questo Facciamo scoppiare i dinamiti Diciamo una cosa lì No mortis No mortis No mortis Bravo mortis Ok mortis No mortis No mortis Taccito mortis Dai 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 Posso metterti una difesa lì No Dai 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 mortis Ok ti aiuto la mia torretta Vattene via Prendi quello che puoi e vattene Bravo Però Adesso stiamo Con questo vantaggio Non pushare da solo Cristo è Dio Cioè non c'è No mortis Mortis devi andartene Mortis devi andartene Devi andartene Ok 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 Ho fatto in modo che tu Non venissi preso Morendo Veloce l'ho fatta Ok Ho messo la torretta lì Fuu Mortis l'ha recuperata Bravo mortis Bravo 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 Porca troia Buono Che emozioni In queste partite ragazzi Quindi Per me può finire qua Vi ringrazio tantissimo Per la visione Nel caso in cui vi sia stato Il video Vi lascia un mi piace Iscrivi al canale E commentare Se vi va Quello solo è tutto Alla prossima Ciao Però prima devo aprire una cassa Magari No col cazzo Che mi riesce qualcosa di bello Un gettone Vabbè